Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Allora, oggi attaccheremo insieme le figurine degli amici cucciolotti Questa volta farò 4 episodi perché ho avuto 4-10 Se non ve l'ho detto in un video Quando ho le figurine vuol dire quando ho preso 4 No, si è 4 Quando ho preso 10 a scuola Allora, 1, 2, 3 e 4 4 figurine Incominciamo subito con la prima Che bello Scusatemi che non ve l'ho detto ma la signora dell'edicola mi ha anche dato questo Se volete sapere come si ha questo basta che disgetta la signora Da me fanno così Hai anche quelli grandi quando dicete figurine degli amici cucciolotti Vabbè vi dico anche quanti Comunque Allora, ora vi faccio vedere un po' le figurine La cartolotta, questa qui bellissima Abbiamo questo che è brolga Poi questo che è stercorario antartico Stranno mio Poi questo è lo scimpanse No, scimmia lanusa argentata Poi questo 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 Kobo I forti devono proteggere i più deboli Ok, iniziamo subito Ovviamente prendo Scusate un attimo Incominciamo con questa Che è la numero 56 Qui E ora andiamo con questa qui Che dietro ci sono le domandine E vale questa Vale 4 punti Scusate La numero 71 Qui Poi Scusate Partiamo con questa 110 Dopione Comunque era qui E Dopione Comunque infatti Sapevo che era un doppione Comunque Questa qui 153 Sempre con le domandine Questa Dov'è? Eccola Sta qui Poi la per ultima Questa qui Che si chiama Kobo E la 219 Con le domandine Che vale 5 punti Doppione Anche questo Doppione Ma Rema con questi doppioni L'ultimo Questo qui Bellissimo Che c'è scritto Proteggo La natura Perché è la mia casa Bellissimo 424 Con Le parti da colorare Vi viene Il disegno Scusatemi Ma è la 424 Non so se ho detto 224 Ma è 424 Questa pagina Questo Che è il mio primo Yeee E Le figurine Sono finite Va bene Io spero che il video Vi sia piaciuto E alla prossima Ciao Ah E questa è la prima parte Andiamo con la seconda 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 Parte Ciao 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 Grazie.